Abitazioni ed edifici più efficienti amici dell'ambiente a costi ridotti grazie al superbonus 110% possibile volano per vari settori a cominciare da quello dell'edilizia. Tutti gli aspetti del superbonus sono stati illustrati in un convegno al Palazzo dei Congressi a Firenze, organizzato da Terra Progetti, società di consulenza specializzata in strategie per l'efficientamento energetico. L'incontro, chiamato appunto 110 Lode, dopo il saluto iniziale del Presidente della Toscana Eugenio Gianni, è stato un importante momento di confronto e approfondimento sul tema degli incentivi fiscali e delle ristrutturazioni edilizie. È una legge che tocca trasversalmente settori economici e cittadini, si va dalle banche alle imprese ai tecnici e in ultima analisi appunto il cliente finale è un cittadino, quindi è quasi rivoluzionario. Per una volta, forse per la prima volta, ci si trova un tavolo allargato dove siedono le imprese, le istituzioni finanziarie e i cittadini. Si è parlato anche dei problemi relativi all'approvvigionamento delle materie prime, ma anche dell'enorme quantità di cantieri visibili in ogni parte d'Italia, con la Toscana grande protagonista di questa rinascita green. È stato un grosso input da parte dello Stato italiano, da parte del legislatore, dare questa opportunità di riqualificazione edilizia, però va presa con la giusta moderazione e la giusta attenzione. Il ruolo centrale dell'amministratore perché questa normativa sia applicata correttamente è fondamentale. Un tema centrale rimane quello della sicurezza sui luoghi di lavoro. La sicurezza è un bonus aggiuntivo perché fare lavoro con sicurezza riduce i costi per il datore di lavoro sulla questione degli infortuni, del premio assicurativo, cioè per il Paese è una riduzione di costi lavorare in sicurezza, per cui non è un aumento, ecco, va interpretato in questo senso qua. Il superbonus è stato prorogato fino al 30 giugno 2022.